Volo Roma New York a 3 euro Finale mondiale Tribuna VIP a 3 euro Cena stellata a 3 euro Non abboccare a tutto Dall'1 al 4 aprile Cinema a 3 euro No, non è un pesce d'aprile È l'inizio di un nuovo movimento Scoprilo in sala in tutti i cinema aderenti all'iniziativa